Per la riparazione della tua auto, affidati a Vigicar di Fontana e Miciulla. Troverai cortesia e affidabilità per manutenzione e cambi automatici, vendita usato multimarca garantito, auto noleggio, ricarica aria condizionata, progetto Mutul Evo ed è affiliata a TRV Autoservice e Infodrive. Vigicar la trovi in contrada piana a Sant'Agata Militello. Per informazioni 0941723130 Al prossimo episodio